Buon pomeriggio, questo video per fare la consueta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana, oggi giovedì 24 marzo, sono le 16.30, metà pomeriggio, quindi ci avviamo verso la chiusura della seduta. Partirei come al solito dalla borsa italiana, dal Future Fuzzimib, che vedo che sta andando al rialzo. Dopo il minimo del 7 marzo, che è una cosa abbastanza in comune a tutte le principali piazze finanziarie, è stata una reazione. Poi qualche mercato è saluto di più, qualcuno è salito meno, qualcuno sta facendo una sorta di configurazione AV, qualcuno dopo averla tentata inizialmente sta lateralizzando ed è proprio esempio il caso del mercato italiano, che dopo aver con forza superato al rialzo l'indicatore Parabolixar, adesso si trova alle prese con la successiva resistenza determinata dalla media mobile, 25, qui indicata in verde, che tra l'altro è inclinata e quindi è effettivamente una resistenza forte. Ieri c'è stata una seduta negativa, faceva presagire che anche oggi la giornata potesse essere impostata al ribasso a causa di un ritracciamento, in realtà così non è stato, anche oggi il mercato infatti sta performando piuttosto bene con un 1%, quindi siamo direi che vista l'impostazione grafica del momento ci sono buone possibilità che il mercato possa andare a rialzo anche nelle prossime sedute e recuperare l'importante soglia dei 24.000. Quindi siamo alle prese con delle resistenze, siamo alle prese con dei livelli, stiamo andando verso l'alto e l'obiettivo primario è quello di raggiungere 24.000 con una chiusura daily superiore e poi sul livello successivo 24.110 anche superare la propria media mobile, dopodiché c'è spazio per andare fin verso il livello 24.000. Il tutto trenato come vedremo successivamente dalla borsa americana che già da diverse sedute sta andando molto bene, ha rialzo e ha già recuperato e risuperato i livelli pre-crisi, ovviamente della crisi mi riferisco allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. L'Italia rispetto all'America al momento è ancora sotto ed è ancora leggermente più indietro, quindi ci sono maggiori margini di recupero. Situazione analoga ma forse anche migliore sul mercato tedesco, sul future DAX che ha già superato invece la propria media mobile la settimana scorsa ed è in procinto di attaccare l'indicatore supertrend, un indicatore supertrend che è piatto da già circa 10-12 sedute, che sta facendo da tetto di questo movimento rialzista ed è un ostacolo duro da superare sul livello 14.587. Più di una volta le quotazioni sono avvicinate ma non hanno mai avuto la forza di superarlo con una rottura. Adesso c'è stato ieri un pullback sulla media mobile, oggi reazione ancora positiva dell'1%, secondo me ci sono buone possibilità che la lateralità possa continuare ancora per 1-2, al massimo 3 sedute e poi il mercato possa finalmente superare il supertrend e andare e continuare a rialzo avendo come obiettivo almeno il raggiungimento del livello 15.000. Quindi anche qui c'è una pausa di riflessione di queste ultime 6 sedute ma che sono tutto assommato una fase di consolidamento che potrebbe essere un preludio alla continuazione del movimento rialzista in corso. Passando oltre a c'è la borsa americana, Wall Street, questo è lo Standard & Poor's 500, come è evidente rispetto alle quotazioni che c'erano il 24 febbraio quando è scoppiata la guerra Russia-Ucraina o meglio più che scoppiata la guerra in realtà l'invasione della Russia in Ucraina, le quotazioni tutto sommato non ne hanno risentito più di un tanto perché vi è stato un volatile movimento di congestione laterale per poi riprendere un movimento al rialzo, quasi una configurazione ad W se si guarda bene questo grafico daily. E anche qui al pari del DAX le quotazioni sono leggermente schiacciate dall'indicatore supertrend che è piatto da almeno inizio mese e che vede questa resistenza sul livello 4.516 al momento ancora difficile da superare. Nella giornata di oggi, proprio in questo istante, stiamo nuovamente arrivando al 4.500, speriamo di avere una chiusura sopra il livello 4.500 che ovviamente darebbe per la giornata di domani e per l'inizio della prossima settimana molto probabilmente il superamento anche di questa resistenza. Chiaro che è una resistenza che vedono tutti, la vedo io, la vedete voi, la vede tutto il mondo, però è anche vero che dal punto di vista grafico e secondo i dettami dell'analisi tecnica quando un mercato e delle quotazioni si avvicinano così tanto e ci provano diverse volte a tentare di superarla, prima o poi ci riescono e quindi l'obiettivo è il superamento di queste resistenze, l'acquisizione di questi livelli e nel caso specifico dello standard EPUL 500 il raggiungimento del livello 4.600. Per quanto riguarda le commodities, partendo dal crude oil, il petrolio, l'analisi effettuata la scorsa settimana si è rivelata corretta, eravamo attorno al livello 105 dopo essere rimbalzati da quota 95 che nei mesi precedenti era un'importante resistenza poi raggiunta come target secondo i report di diverse banche d'affari, poi ovviamente sulla base delle regole di analisi tech tutto ciò che è resistenza diventa supporto venendo dall'alto, da quel massimo importante di 130 dollari al barile, anzi direi un doppio massimo, il mercato scendendo si è nuovamente appoggiato a 95 e poi da lì rimbalzato. La settimana scorsa come dicevo era attorno a 105 dopo aver superato a rialzo la propria media mobile e anche la soglia dei 100 dollari, il target che avevo dato era 115 e è stato raggiunto proprio nella giornata odierna, anche leggermente superato fino a 116 e qui secondo me l'operatività deve essere chiusa nel senso che per quanto riguarda le prossime sedute il mercato ha bisogno di un ritracciamento, ha bisogno di un pullback, ormai la fiammata che doveva esserci a causa dello scontro della crisi Russia-Ucraina è già avvenuto, non credo che in tempi brevi si tornerà nuovamente a 130, anche se ho letto di qualche banca d'affari che lo dà a 200 dollari entro l'anno, se la guerra perdura per parecchi mesi, qualcuno l'ha dato addirittura a 250, ma mi sembrano dei numeri talmente lontani e talmente campatinari che francamente non li prenderei in considerazione, anche perché c'è da considerare che se il prezzo del petrolio dovesse veramente raggiungere quei livelli chissà a che prezzi arriveranno l'energia, il gasolio, la benzina, il gas e tutto il resto e metterebbe in ginocchio veramente l'economia mondiale, quindi non lo so se ci arriverà, penso di no, spero soprattutto di no, ma sarebbe veramente una tragedia. Tornando al nostro piccolo, io credo che nelle prossime sedute si assisterà ad un ritracciamento dei prezzi del petrolio e che possa fare un pullback verso la media mobile, quindi uno short anche adesso subito su questi livelli 112 e 50 per arrivare nell'arco di una settimana a 105 nella peggiore dell'ipotesi o anzi nella migliore dell'ipotesi visto che siamo in posizione short fino a 100 a mio parere ci sta, poi a 100 ovviamente c'è un'altra volta un supporto ed è una soglia psicologica importante che non so se verrà violata, però uno short da 112 a 105 molto veloce di qualche seduta, a mio parere ci sta perché il movimento potrebbe essere negativo nel brevissimo termine. Analisi bene corretta ed individuata anche sul gold, sull'oro, quella della scorsa settimana, avevo detto che dopo questa fase laterale di concessione molto importante tra il livello 1900 per il ribasso e 1950 per il rialzo, finalmente vi è stato proprio nella giornata di oggi un importante rialzo, importante sia perché ha rotto e superato il 1950 sia perché ha superato la media mobile a 25 e sul livello 1950 io sono entrato in posizione long, quindi al momento sono in guadagno di circa 13 punti, 13 dollari l'oncia e mi aspetto un ulteriore allungo per le prossime sedute. Non so e devo dire che non mi aspetto neppure il raggiungimento del livello 2000 anche perché lì c'è un supporto importante ed è una soglia psicologica importante ma il livello 1980-1985 credo che sia alla portata, quindi rimango in posizione long da 1950 con un target 1980-1985 e ci aggiorniamo la settimana prossima su questa operatività, al momento rimango in posizione. Infine uno sguardo al mercato valutario, al principe dei cross, l'euro dollaro, anche qui tutto secondo copione, d'altro canto era abbastanza facile prevedere che un aumento dei tassi in America esattamente come è avvenuto anche se di lieve entità solo 0,25% avrebbe portato un aumento del valore del dollaro rispetto alle altre valute e in particolare in questo caso dell'euro. Quindi effettivamente l'euro dollaro si è leggermente depreciato e considerando che nelle prossime riunioni della Fed ci saranno ulteriori aumenti tassi di interesse dello 0,25% ogni volta è probabile che l'euro dollaro sia destinato a scendere. Anche nelle ultime sedute, nell'ultima settimana infatti è rimasto assolutamente compresso, schiacciato al ribasso dalla propria media mobile 0,25% non ha mai tentato di superarla ed è quindi in un trend ribassista. Per le prossime sedute, visto che questi ribassi comunque non sono stati né particolarmente volatili, né particolarmente violenti, né particolarmente ampi, può darsi anche che ci sia un rimbalzo. Su questo livello 1,10% che sta lavorando proprio adesso, un rimbalzo è possibile attenderlo e anche un tentativo di superare la media mobile, che probabilmente avverrà, ma poi il mercato dovrà per forza continuare a scendere. Quindi nel breve ci può stare anche un rimbalzo nelle prossime sedute, nella prossima settimana, ma nel corso delle prossime settimane ancora e anche dei prossimi mesi il trend dell'euro dollaro avrà per forza una spinta all'ingiù rimassista anche piuttosto prolungata fino a 1,08 almeno per i prossimi mesi e entro il primo semestre di quest'anno. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading.